Mi rivolgo alle persone che sono qua in Veneto, grandi lavoratori, perché quando sono venuta ad abitare qua, 25 anni fa, 30 anni fa, ho veramente apprezzato questa regione. Vi chiedo quindi di, in questo momento un po' difficile per tutti quanti noi, di tenere le distanze di sicurezza, di indossare le mascherine e di mettercela veramente tutta. È un appello alla responsabilità ma anche a non mollare quello che arriva da una delle artiste italiane più conosciute e amate al mondo, Sabrina Salerno, ligure di nascita ma veneta d'adozione ed è proprio al Veneto che guarda Sabrina. Abbiamo un presidente che è molto saggio e ci ha aiutato tantissimo, quindi è arrivato il momento di stringere i denti. La pandemia del resto ha colpito pesantemente anche il mondo di Sabrina, lo spettacolo bloccando tanti eventi ma non la voglia di cantare né di sperare. Concerti, tutte le persone che lavorano dietro al mondo dei concerti, pensate, coristi, ballerini, fonici, tecnici, quindi il mio settore, il turismo, la ristorazione, non molliamo proprio adesso, quindi indossiamo le mascherine e mi raccomando le distanze di sicurezza sono fondamentali e io le indosso, ecco qua.